A Pordenone, grande rivoluzione green per abbattere i consumi di energia e le emissioni inquinanti. Il Comune ha infatti appena approvato il piano definitivo da 6,7 milioni per la riqualificazione energetica di quasi 90 edifici comunali, tra scuole, impianti sportivi, uffici e altri immobili pubblici. L'approvazione del gigantesco progetto, con una delibera record da ben 900 legati, permette di sbloccare i lavori che si svolgeranno tutti quest'anno, a partire da giugno. Quali sono gli interventi che verranno fatti? Gli interventi riguardano tanti aspetti, primo su tutti la sostituzione delle caldaie vecchie e la sostituzione di tutte le lampade con lampade a LED a basso consumo. Poi ci saranno una serie di interventi diversificati negli edifici, tra i quali la realizzazione di impianti fotovoltaici, ce ne sono più di 30 sui tetti degli edifici, la realizzazione del cappotto sia a livello tetto sia a livello riguardo l'involucro esterno, quindi le murature. Verranno realizzate la parzializzazione, cioè la divisione dell'impianto termico in modo tale da poterlo usare solo dove serve acceso e quindi dividere le varie stanze e altri interventi legati alla misurazione dei consumi proprio per andare a evitare che ci siano sprechi negli edifici. A illustrare le ricadute positive in termini di risparmio energetico e di tutela dell'ambiente è il sindaco Ciriani. Maggiore efficientamento energetico ma soprattutto risparmio tanto sull'energia elettrica quanto su quella del calore intorno al 17%, quindi un risparmio non marginale, ma soprattutto una diminuzione netta delle emissioni tanto di CO2, si parla di 724 tonnellate di CO2 in meno e anche di polveri sottili. Quindi molto spesso ci si concentra sul taglio di un albero ma non si vanno a vedere queste iniziative che sono più complesse perché più tecniche ma che hanno un impatto ambientale assolutamente fondamentale per la qualità della vita di portenonesi.